le rispettive esposizioni. Siamo tutti. Questa sera per la confraternita dei pellegrini è una serata speciale, perché per la prima volta, credo, in questo Augusto Salone, ricco di tante memorie, avremo la possibilità di esaminare una storia, che è la storia del nostro Paese, in un'epoca particolarmente problematica e difficile, qual è quella che è stata realizzata nel seguito del periodo della ripresa, della ricostruzione, dopo il famoso momento del boom. Quando cioè, nel 1980, abbiamo avuto un violentissimo terremoto, il quale ha distrutto parte delle regioni Campania, Basilicata e parte Puglia e parte Calabria. e nello stesso tempo ha stimolato una serie di fattori particolarmente impegnativi che avevano per oggetto la struttura dello Stato, la democrazia in questo Paese e soprattutto la possibilità di trasformarlo e di farlo progredire in un senso o nell'altro. è una storia complessa, particolarmente laboriosa, la quale è stata resa leggibile in seguito al lavoro paziente ed eroico di un magistrato che allora era giovane e che affrontò con tutte le sue energie il tentativo di mettere in luce le ragioni, le cause e i rimedi necessari perché un fenomeno che allora si andava sviluppando e che era quello del terrorismo andasse represso e sconfitto. il terrorismo non è stato, come può sembrare, un tentativo velleitario di pochi e inetti protagonisti. Il terrorismo è stato una vicenda che ha riguardato fasce sociali molto estese, ha riguardato ambienti colti, ambienti capaci di organizzarsi, ambienti i quali non riuscivano a rendersi conto della necessità dello sviluppo progressivo delle riforme e del miglioramento lento dei costumi di un determinato Paese. Il terrorismo è stato una vicenda che ha comportato decine di vittime, è una sensazione di insicurezza, di ingiustizia e di incertezza della quale è inutile parlare perché in ciascuno di noi è ancora presente quello stato di disagio che quei fenomeni terroristici provocarono. Era un disagio non facile, era un disagio molto concreto, molto consistente. Nessuno era sicuro di essere capace di continuare il proprio lavoro, di sopravvivere, di essere libero dalla minaccia di fatti estremamente gravi che riguardassero la sua persona, i suoi familiari, i suoi amici, la sua scorta persino, per quelli che avevano una scorta. era un fenomeno che riguardava centinaia di persone, non era un fenomeno isolato ed era uno dei pochi fenomeni di rinnovanza politica che ha avuto origine e sviluppo come nelle regioni settentrionali, nelle regioni centro-meridionali, in Campania e anche in altre regioni del sud, in Puglia, in Calabria e così via. La vicenda dell'illusione terroristica, il terrorismo è sempre un mezzo politico a cui hanno fatto ricorso soggetti che avevano l'illusione di ottenere dei risultati politici concreti attraverso l'uso indiscriminato ed ingiusto della violenza. Essi credevano che con il terrore diffuso nei confronti di soggetti che potevano organizzarsi ed opporsi sarebbe stato possibile cambiare l'assetto sociale. L'assetto sociale non solo, ma la condizione di vita del paese in cui essi stessi vivevano, come se fossero stati dei protagonisti di vicende di cui essi soltanto conoscevano le rilevanti chiavi di soluzioni. I problemi del terrorismo e noi abbiamo avuto molti, molti delitti in Campania, molti delitti. A cominciare dall'assassinio del divino amato, all'assalto della caserma Pica con relativo disarmo e assassini vari, all'assassinio di Del Cogliano e dell'autista di lui, all'assassinio di un vicequestore che era come me, se lo dovrebbe ricordare. Noi infatti lo ricordiamo con dolore, perché era una brava persona per quello che ricordo io. Abbiamo avuto addirittura un assalto a un convoglio dell'esercito con due militari assassinati. Cioè noi abbiamo avuto un periodo di una strana guerriglia, di una guerriglia intermittente, una guerriglia fatta di assalti e di episodi omicidiari, ma scollegati l'uno all'altro, però tuttavia legati tra sé da una necessità omogenea di ottenere dei risultati di disordine, dal quale ottenere, come da una ricostruzione fantastica, un nuovo modo di intendere la vita collettiva e la vita dello Stato. Era chiaramente una folla illusione contro la quale il Paese tardava a agire perché tardava a rendersi conto di che tipo di problematica si trovasse di fronte. Quello il quale incappò, dico questo perché fu proprio così, in una vicenda che modificò la sua vita e modificò la sua cultura di magistrato e di uomo, è stato appunto il nostro amico Alemi, il quale era allora un giovane giudice istruttore, a cui piombò addosso il caso di un omicidio di un omicidio ammaturo, se non ricordo male. E poi fu interessato anche al famoso problema del sequestro Cirillo. Il sequestro Cirillo era un fatto che seguiva un altro sequestro, seguito a sua volta dall'omicidio, parlo di Moro, che nella nostra memoria rimane sempre una delle vittime più innocenti e più amare di questo periodo della nostra storia. Il sequestro Cirillo ebbe un destino diverso da quello del sequestro di Moro, perché innanzitutto Cirillo non fu ucciso. Però Cirillo aveva una cosa che Moro non aveva. Cirillo era l'esponente della regione Campania che presiedeva una commissione che attribuiva gli appalti per la ricostruzione e il rifare le distruzioni molto estese che il terremoto aveva provocato nei vari centri abitati dell'Irpinia, della provincia di Napoli, della provincia di Salerno e così via. Cirillo fu logicamente sequestrato. Colui che era con lui e che lo faceva da scorta venne ucciso e praticamente fu inghiottito da questo pozzo oscuro e impenetrabile dell'azione delle brigate, brigatisti. Bisognava salvarlo. Bisognava salvarlo da parte di chi? Da parte dei suoi amici, dei suoi compagni di partito, di coloro che avevano con lui legami che non erano soltanto legami ideologici o legami di amicizia, ma erano legami di carattere politico concreto, che avevano per oggetto affari, organizzazione di catene di affari che provovano una modificazione delle condizioni economiche di soggetti di un certo livello pratico anche a livello politico. E quindi noi abbiamo avuto che per il sequestro Cirillo si sono mosse una serie di forze che altrimenti sarebbero rimaste immobili in attesa che il destino di Cirillo si consumasse. questo non avvenne perché ci fu una consapevolezza, una consapevolezza che derivava dalla frequentazione e dalle conoscenze dirette e personali di alcuni protagonisti della vita politica campana e anche italiana, del potere che si era negli anni formato e si era consolidato di un capo camorrista ferocissimo, che era il capo della nuova camorra organizzata, se non ricordo male, che era appunto Putolo, il quale era padrone della vita e della morte di coloro che lavoravano nel mondo del crimine che egli controllava sempre in maniera più estesa e più approfondita. Può, Cutolo, dare una mano perché questo sequestrato fosse restituito alla sua famiglia, ai suoi amici, al suo partito e alle funzioni che il partito intendeva portare avanti in quel contesto che era il contesto del quale vi ho accennato a proposito della ricostruzione. Pare che la prima tranche di questo finanziamento avesse come contenuto circa 30 miliardi. Era insomma una somma notevole. Nel testo è scritto che qualsiasi altra regione del mondo che avesse visto piovere su di sé 30 miliardi di lire avrebbe potuto rinnovare tutte le proprie strutture, riorganizzarsi e migliorare. Un fenomeno che invece nella nostra campania non si è verificato. Le ragioni non sono esposte nel libro che ha scritto il nostro amico, ma le ragioni sono in un certo senso evidenti e derivano da questo arraffa-arraffa che ci fu in un contesto di assoluta mancanza di controlli perché si era creato un sistema che determinava la diffusione di queste enormi somme attraverso una logica spartitoria che comportava un rapporto vicendevole e perverso tra la politica, la criminalità ordinaria e l'attività ordinaria imprenditoriale. praticamente la politica destinava queste somme a determinati imprenditori i quali precedevano a un subappalto che aveva per protagonista aziende che erano caratterizzate dal carattere criminoso dei suoi componenti, i quali ponevano in essere i loro lavori con i metodi che sono propri dei criminali. logicamente non c'erano sindacati, non c'erano contratti di lavoro, non c'erano periodi di ferie non c'erano problemi che attenevano alla conservazione o non conservazione del posto di lavoro perché? perché erano delinguenti. tutto questo però si traduceva in guadagni molto più consistenti perché tutto il costo che è la legalità del lavoro era soppresso. questo era il sistema del quale noi siamo stati involontari testimoni e nemmeno completamente consapevoli perché la gran parte di noi non avvertiva la grandiosità del fenomeno del quale io in questo momento sto parlando perché sono stato reso edotto dal libro che è stato pubblicato dal nostro amico Alem. il vero problema fu che di fronte al sequestro di Cirillo il sistema sarebbe andato in crisi dato che Cirillo gestiva con dei metodi che erano collaudati e che erano confortati dal generale consenso questo tipo di procedura generalizzata della distribuzione delle risorse bisognava quindi liberare Cirillo prima di tutto non farlo uccidere e in secondo luogo restituire la libertà perché potesse tornare a lavorare nel modo in cui mi sono permesso di riferire alle signorie vostre ripetendo i concetti che sono stati espressi non da chi ha scritto e pubblicato il libro ma da coloro che sono stati da lui interrogati il vero problema fu che tra le tante possibilità che c'erano di ottenere una apertura nello specchio così oscurato della povera vita del povero Cirillo venne in mente appunto a soggetti del territorio dal quale veniva che ritennero opportuno di garantirsi la collaborazione di un grande capo criminale che era Cutolo Cutolo era riuscito a creare nel mondo carcerario un sistema di dominio dei detenuti avendo su di essi un potere di vita e di morte a seconda che obbedissero o resistessero agli ordini che egli davo è chiaro che con queste metodiche l'obbedienza era quasi necessaria e quindi aveva questo potere concreto e questo potere concreto si estendeva anche a coloro in stato di detenzione che appartenevano alle associazioni terroristiche che non potevano sottrarsi a queste leggi feroci che caratterizzavano appunto il sistema cutuliano del dominio delle carceri per motivi complessi Cutolo accettò di dare una mano perché Cirillo fosse salvato si ebbe così uno strano fenomeno che credo sia tipico del nostro paese perché non credo che ce ne siano stati simili in altri paesi nel secolo che è appena passato perché? Perché Cutolo si mise a disposizione a condizione però che fosse pagato un riscatto un riscatto di notevole consistenza che pare che sono 1 miliardo e 450 milioni che fu versato non sappiamo questa somma chi la intascò in senso concreto chi li mise in tasca se i brigatisti oppure Cutolo certo è che fu pagato un riscatto di 1 miliardo e 400 milioni questi denari erano dello Stato no, non erano dello Stato erano stati raccolti da una serie di elargizioni fatte da imprenditori da un gruppo di imprenditori anche tra essi organizzati i quali poi si sarebbero rifatti con i successi economici degli appalti che sarebbero stati ad essi affidati questo è il punto però la posizione che aveva Cutolo in questa vicenda era una posizione ambigua ed era una posizione ripugnante perché egli che era un criminale assetato di sangue capace delle più sciagurate imprese assassine era diventato uno strumento dello Stato era cioè come una specie di poliziotto come una specie di carabiniere come qualcosa di simile a un giudice istruttore dotato di particolari mezzi di intelligenza e operativi era diventato praticamente un utensile dello Stato immagine quindi che confliggeva radicalmente con tutte le cose che erano state dette a proposito della Repubblica Italiana fondata eccetera eccetera come si dice nella nostra Costituzione e questa immagine e le conseguenze che dall'immagine si sarebbero potute ricavare erano intollerabili per coloro che gestivano in quel momento il potere in Italia e che era un certo partito di particolare successo i cui protagonisti sono noti a tutti quelli che stanno qui basta che ci riflettano un attimo su i postori quindi si impegnarono con tutti i mezzi a loro disposizione per impedire che l'istruttoria fosse portata avanti per la ricerca e la conquista della verità il problema è proprio questo si voleva che non si sapesse che cosa avesse determinato la liberazione di Cirilli il pagamento della somma di cui ho parlato e questa specie di miracolo che era stata la salvezza della vita di Cirilli la lotta appunto si radicalizzò divenne una lotta esemplare come quasi tutte le cose che avvengono in Italia però il giudice istruttore il quale cercavo secondo le pregole del proprio lavoro di accertare che cosa era avvenuto perché la verità è un diritto del cittadino in un paese democratico è invece un pezzo dello Stato che faceva di tutto per opporrisi per negarsi per tacere perché questa verità non fosse resa pubblica ci fu un articolo scritto se non ricordo male sul giornale del Partito Comunista non mi ricordo nemmeno come si chiamava sull'unità che appunto parlava dell'intervento di Cutolo e del pagamento del riscatto da allora questo programma di nascondimento e di silenzio fu compromesso un poco alla volta un passo dietro l'altro si incominciò a sapere che cosa era avvenuto quali erano stati i mezzi che erano stati usati per ottenere questo risultato così importante la salvezza cioè di civili e quindi la possibilità di una distribuzione equanime e razionale degli appalti della ricostruzione lo so è un discorso che fa male fa male a me che lo pronuncio e credo che debba fare male a voi che lo ascoltate ma deve essere fatto perché questo libro è un pezzo della storia del nostro paese e spiega tante cose che altrimenti sarebbero incomprensibili basta per esempio prendere il libro e leggere la dedica da Maturo nella quale si dice che egli, poveretto e il Maturo è veramente un povero sventurato servo dello Stato ha diritto di sapere la verità perché la verità deve essere ricercata dal magistrato e da tutti poi c'è un'altra parte del volume che io non posso non esporre ed è la presentazione di Luigi Necco Luigi Necco era un giornalista corpulento molto caratteristico a volte simpatico ma certo non era un'acqua però Luigi Necco dice in questa presentazione che la legalità dello Stato è stata messa da parte per gli interessi di una consorteria politica e proprio riferisce così per accenni alla ricostruzione post terremoto ed infine abbiamo un altro il testo di Necco è relativamente semplice quello che è un testo molto importante e molto lucido è quello che nella sua presentazione ha ritenuto di scrivere il nostro credo che sia stato il predecessore il nostro amico Franco Roberti un testo lucidissimo articolato in tutti gli snodi di questa vicenda perché lo si comprenda come inizio il libro basta ricordare la vicenda di un povero poliziotto che si chiamava De Chiara che era un appuntato il quale non ricordava i nomi o le circostanze che doveva riferire al giudice istruttore secondo le istruzioni avute per cui teneva un pezzettino di carta dal quale leggeva quello che avrebbe dovuto riferire al giudice istruttore quando il giudice istruttore dice senti per favore dammi questo pezzo di carta fammelo vedere se lo mise in tasca no tu me lo devi dare disse il giudice istruttore perché altrimenti ti manda appoggio reale me lo devi dare lui lo strappò e fece pezzettini se lo mise in bocca nel tentativo di inghiottirlo perché poverino non era così addestrato da poterlo inghiottire senza spugnarlo se posso fare questo quando poi la scorta che era presente all'interrogatorio disse ma tu sei pazzo vuoi passare un guai dai il pezzo di carta al giudice lo tolse dalla sua bocca lo ricompose e lo fece leggere e così è emerso che Cirillo dopo essere uscito dalla prigione dei terroristi non era stato portato dai sostituti che lo attendevano e che erano se non ricordo male Carmine Pace e Libero Mamone ma era stato mandato a casa sua dove nessuno lo poteva vedere nessuno poteva parlare con lui in quanto lui aveva delle condizioni psicologiche tali secondo quello che si diceva che non poteva parlare ma invece egli parlava lungamente a lungo con coloro dai quali dipendeva a livello politico ma questo vuol dirvi soltanto quanto fosse problematico il momento iniziale di questa indagine la quale man mano si approfondì divenne più articolata più complessa e fu caratterizzata anche da episodi aggressivi in senso culturale nei confronti del giudice istruttore il quale era praticamente completamente isolato aveva soltanto una scorta e un'arma che gli portava con sé la speranza di non essere totalmente inerme questi sono i fatti nella loro complessiva evidenza perché ci è stata tutta una serie di azioni che tendevano anche da parte di soggetti che non avrebbero dovuto prendervi parte a rendere inutile l'attività della ricerca del giudice istruttore il quale solo in quel contesto riuscì a portare a termine il suo lavoro perché era inevitabile che esso avesse successo in quanto in un paese democratico la verità ha una necessità assoluta di essere raggiunta e proclamata questo è un segno come dire un segno di opacità della cultura morale della politica italiana opacità che non è finita allora che secondo me ha avuto altri episodi sui quali però non è stato così drammaticamente messo in luce il carattere proprio vessatorio e anti giuridico della condotta posta in essere da coloro che gestivano tutti i poteri possibili salvo quello consagrato dalla Costituzione della indipendenza del giudice istruttore qui presente il quale ha pagato in termini di sacrificio personale e di super lavoro le conseguenze di questo dato esatto è un testo che io forse ho parlato più di quanto sarebbe stato necessario ma non ne ho potuto fare a meno perché il libro è un documento singolare del quale dovremmo tutti quanti renderci consapevoli per avere idea di che cosa bisogna evitare in futuro per tutelare i diritti di tutti non soltanto del giudice istruttore o di colui che ha subito un sequestro di persone ma perché è una delle condizioni di una ordinaria vita democratica bene e poi non sarà male leggerlo anche per capire che cosa è stato il terrorismo in Italia quante sono state le vittime e che tipo di sviluppo criminale si è avuto in parallelo a quello delle Brigade Rosse del resto noi abbiamo dinanzi a noi il questore che ricordo quei tempi come li ricordo io che pure facevo se non ricordo male il giudice penale allora mi sembra o il sostituto ma non mi ricordo più è passato tanto tempo ma penso è naturale che lo abbia dimenticato però era una realtà tormentosa e implacabile castrante che dava agli italiani una sensazione di smarrimento della quale essi non erano nemmeno consapevoli in modo lucido ma che li ha portati a fare delle scelte mutevoli spesso sbagliate che del resto non possono non essere in un certo senso giustificati di fronte a questo disordine delle coscienze che era una delle conseguenze di questo avvicendamento di attività illecite e di attività criminale senza contare che fu proprio allora che si ebbe quel compenetrarsi degli interessi criminali con interessi politici al punto tale che nelle regioni soprattutto a sfondo agricolo che sono le regioni meridionali determinò un potere praticamente illimitato della criminalità della criminalità che comportava l'elezione dei vari candidati ai vari posti a cui essi aspiravano e i condizionamenti che ne derivavano e che sono stati presenti nella storia di queste disgraziate regioni anche tanto per fare un esempio nella distruzione del paesaggio italiano che è un dato di fatto di cui io vi ricordo la rilevanza il paesaggio italiano era un paesaggio di una bellezza unica nel mondo che è stato distrutto dall'abusismo che è stato praticamente portato avanti e quasi programmato da questa organizzazione compatta da questo interscambio tra criminalità comune e attività politica deviata questo tanto per dire le cose come sono non sono delle mie rivelazioni sono cose che sappiamo tutti quanti che devono però imporci una presa di coscienza sempre più sicura per esercitare nei limiti del possibile i nostri doveri di cittadini di un paese democratico grazie applausi 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 e quindi non può ovviamente essere qui né coordinare questo incontro e naturalmente sarò io a coordinare questa bella tavola rotonda, agevolato da un fatto che sono al bis, perché già ho presentato il libro di Carlo agli istituti filosofici e quindi parto favorito, forse insieme con Isaia, su questo compito. E dico solo due cose prima di dare la parola ai relatori, che sono un po' le stesse riflessioni che feci allora. Il problema di libri interessanti come questi è un problema di interlocutori, cioè mi spiego, questo uditorio ha per acquisiti una serie di dati e di conoscenze di quel periodo che se si vuole raccontare questa storia a degli adolescenti o anche a dei ventenni diventa problematico dare invece per scontato. Mi spiego, se dite a un diciottenne che cosa era l'ADC, non lo sa, il PSI ancora di meno, il periodo storico del blocchi contrapposti, quindi della guerra fredda, dice ma di che stiamo parlando insomma. E quindi riuscire a contestualizzare questi eventi è importante per poterli raccontare e farli capire a questi giovani e a chi anagraficamente non può dare per scontato una serie di nozioni e di conoscenze storiche di quel periodo. E quindi spiegargli ad esempio che in quel periodo saldamente c'era questo capo dell'ANCO ormai in carcere che era nel momento di maggiore potenza e che questa vicenda sarebbe stata il crocevia della sua caduta e del suo calo col passaggio di equilibri criminali dall'altra parte, da quelli che combattevano l'ANCO. Oppure spiegargli che c'era in quel momento, si era saldato dopo il caso Moro, il partito di maggioranza relativa alla democrazia cristiana che aveva nella corrente dell'assessore Cirillo che faceva capo a livello nazionale a Piccoli e a Gava, la corrente dei Dorotei, il blocco maggiore di potere contrapposto agli andreottiani di Pomicino, in un partito in cui c'era questa grande mamma di correnti che assorbiva i conflitti, i dissidi e i contrasti e li inquadrava in un'unica casa madre che era questo partito. Oppure la nascita e crescita di un altro partito ormai saldamente dopo la sconfitta del senatore De Martino nelle mani di Bettino Craxi, l'avvicinarsi dei primi governi a non guida di Cipri prima con Spadolini e poi con lo stesso Craxi, insomma dare tutte queste nozioni sono il presupposto per potergli spiegare questa storia e quindi io mi ponevo l'altra volta proprio questo quesito, riuscire a spiegare ai ragazzi che cosa avvenne allora significa anche in premessa dargli questa serie di nozioni per potergli far inquadrare e contestualizzargli questi avvenimenti in una cornice generale che per noi è scontata perché è vissuta, è metabolizzata, è stata anche approfondita. Ecco questo era il problema che io mi ponevo proprio perché l'obiettivo dichiarato del libro di Carlo è proprio riuscire a raccontare e a spiegare ai giovani che cosa è stata la storia recente del nostro Paese e quali sono state le difficoltà sue individuali ma in generale di tutto un sistema che cercava di arginare questo fenomeno pericoloso che ha accennato e ha spiegato Enzo Galgano che era il terrorismo. Ecco spiegare a quei ragazzi che c'era questa colonna napoletana guidata da Senzani che aveva attuato già una serie di azioni pericolose succedendo a prima linea che nel 78 aveva fatto la prima vittima a Napoli che era il professore Paolella nel 78 e quindi poi c'erano stati l'omicidio di Pino Amato, l'assessore del Cogliano la morte di Amaturo in contesti e circostanze dubbie e da approfondire ecco tutto questo è oggetto di una contestualizzazione e di un inquadramento che è necessario e indispensabile. Detto questo io lo dissi l'altra volta, le parti a me risultate più interessanti e più belle sono quelle in cui Carlo si racconta in prima persona e descrive un suo stato d'animo e l'atteggiamento rispetto a vicende che adesso sembrano così leggere ma all'epoca sono state oggetto di grande sofferenza gli interrogatori di Gava e di Mita tanto per accennare due episodi e due vicende che mi hanno colpito tantissimo ecco questo è solo per introdurre questa chiacchierata perché penso che adesso bisogna dare la parola ai relatori e io inizierei proprio con Federico Caffiero De Rao il procuratore nazionale antimafia che sicuramente era in procura negli anni caldi in cui Carlo Alemi conduceva l'istruttoria quindi ricorda bene quel periodo e anche un po' il clima e l'ambiente di quella procura era giovanissimo naturalmente Federico all'epoca era uno dei giovani sostituti di quella procura però può ricordare come sicuramente ricorderà quella che è stata la ripresa di queste vicende in quella che è stata l'inchiesta del 93 nata da collaboratori di giustizia che hanno fatto riprendere e reinquadrare la vicenda del caso Cirillo nella vicenda più generale dei contrasti e delle guerre tra nuova camorre organizzata e nuova famiglia quindi Federico Caffiero De Rao grazie grazie Gigi saluto innanzitutto l'autorità il questore, il comandante provinciale dei Carabinieri la guarda di finanza i colleghi e tutte le autorità gli amici vi saluto tutti devo dire che quando Carlo mi ha invitato a partecipare a questo incontro io gli ho dato subito una risposta affermativa io ho dato subito una risposta affermativa non solo perché conoscevo l'importanza del testo che ha scritto ma soprattutto perché Carlo Alemi è stato un magistrato che ha indicato una strada alla magistratura napoletana un vero modello come d'altro canto Vincenzo Galgano che ho ascoltato ho apprezzato ho condiviso quello che ha detto e questo non era scontato allora vedo Bruno D'Urso fra i colleghi presenti appunto uno dei magistrati che lavoravano in quel periodo non era scontato perché non tutti i magistrati si muovevano nella stessa direzione non tutti i magistrati avevano la stessa sensibilità non tutti erano così motivati e Carlo ha avuto la capacità di svolgere il suo ruolo con grandissima indipendenza e soprattutto con la voglia di dare verità di svolgere il proprio ruolo secondo il dettato della Costituzione se il magistrato è un uomo che svolge la sua funzione con il riconoscimento dell'autonomia interna ed esterna dell'indipendenza non lo è perché sia un soggetto privilegiato rispetto a tutti gli altri è proprio il contrario è il soggetto che deve assumersi la responsabilità che deriva dal ruolo che svolge e che il ruolo lo deve svolgere sempre pensando alla giustizia questa entità questo concetto così elevato che vorremmo che fosse sempre applicato che trovasse sempre attuazione ecco Carlo Alemi si è mosso su quel percorso e veniva apprezzato stimato guardato come un modello come dicevo da tutti noi svolgeva poi un ruolo particolare che era quello di giudice istruttore essere giudice istruttore significava svolgere le indagini l'istruttoria essere giudice oggi il nuovo rito ha il pubblico ministero e il GIP il GIP viene investito per tutte le decisioni che riguardano le cautele che riguardano le intercettazioni ma chi individua la linea strategica lo sviluppo investigativo è il pubblico ministero poi il giudice che si assume la responsabilità degli arresti la responsabilità dell'autorizzazione delle intercettazioni ecco allora il giudice istruttore era quel magistrato al quale veniva passata l'indagine quando si presentava particolarmente complessa e che da quel momento era l'unico titolare dell'indagine che non solo individuava la strategia ma in più poteva emettere mandati di cattura poteva sviluppare intercettazioni nei limiti in cui all'epoca era possibile poteva svolgere cioè molte ridotte poteva cioè fare delle scelte che erano delle scelte importantissime colui che veniva sentito era un testimone aveva l'obbligo di dire la verità nel momento in cui veniva meno a questo obbligo poteva essere arrestato seduto a stante e quanti testimoni sono stati arrestati e e poi procedeva agli interrogatori il pubblico ministero era l'interlocutore che dava pareri faceva richieste istanze ma il soggetto titolare era il giudice solo e quando le indagini erano così complesse era solo quel giudice che si assumeva la responsabilità di quale direzione prendere con quale volontà continuare a sviluppare il percorso investigativo che all'epoca era istruttoria proprio per il senso di completezza che aveva per il significato che avevano gli atti compiuti quindi come diceva Gigi Pocanzi Gigi Di Fiore riportarsi in quel periodo e già riuscire a immergersi in una realtà che non è la realtà di oggi oggi è una realtà totalmente diversa sono passati 38 anni da allora quasi mezzo secolo ed è cambiato tutto oggi possiamo parlare liberamente e non pensare di essere discriminati all'epoca non era così gli stessi procuratori della Repubblica venivano nominati con un'ingerenza della politica notevole e d'altro canto è lo stesso Carlo che racconta quale sia stata la difficoltà che ha incontrato proprio perché non sempre la Procura della Repubblica gli è stata vicina fino a che Libero Mancuso e Carmine Pace lo hanno seguito è riuscito ad essere sostenuto ma il loro procuratore non condivideva anche in pieno quella che era la strada che era stata presa così come successivamente quando entrambi poi chiesero di essere trasferiti non si trovò più tanto appoggiato come era avvenuto prima e questo significa che il giudice resta solo totalmente esposto ma pensate l'importanza di questo libro che è un documento storico di una importanza straordinaria Cirillo viene sequestrato iniziano le indagini si sviluppano in tutte le direzioni e quando viene liberato come è stato detto poc'anzi viene portato a casa a casa i magistrati lo aspettavano in ufficio e invece per decisione non si sa di chi o forse si sa ma non è stato però anche questo ulteriormente non ha avuto ulteriormente seguito Cirillo viene portato a casa i magistrati lo aspettavano in ufficio e quindi lo raggiungono a casa a casa Cirillo non è in condizione di parlare i magistrati restano là seduti ore e ore ma questo anche per il loro racconto restano seduti ore e non riescono ad avvicinarlo perché attraverso attestazione medica si afferma che Ciro Cirillo non è in condizione di parlare però con i magistrati presenti arrivano Flaminio Piccoli e Antonio Gava entrano nella sua stanza e si trattengono in quella stanza ore mentre i magistrati restano fuori voi pensate che una cosa del genere sarebbe accaduta oggi oggi non sarebbe mai accaduta una cosa del genere ma anche perché la giustizia nonostante quello che a volte si afferma ha avuto una maturazione e ha assunto esattamente la consapevolezza del proprio ruolo e una volta non si sarebbe consentito un colloquio del soggetto che non era in condizione di parlare o quantomeno si sarebbe detto beh allora entrate voi e siamo presenti anche noi non lo si sarebbe consentito e già questo guardate quale depistaggio comincia a determinare a tutta quanta l'indagine successiva non si trattengono pochi minuti ore e quindi già si comprende da subito cosa sarebbe stato dopo ma le prime dichiarazioni di coloro che erano irresponsabili o comunque gli esponenti nazionali di quella corrente Dorotea della DC i quali avevano affermato pubblicamente non si paga lo Stato non si piega questi proclami che erano propri di uno Stato che voleva rappresentare una piena rigidità la stessa rigidità che aveva ucciso Moro perché con Moro lo Stato era stato rigido pur tuttavia eravamo tutti convinti e lo siamo tuttora che lo Stato non può scendere a patti con nessuno e che bisogna che faccia il proprio dovere fino in fondo anche a rischio della vita di colui che in quel momento è ostaggio ma lo Stato non può scendere mai a patti e era stato fatto con Moro e continuavano ad affermarlo con Cirillo ma chi era Cirillo? in fondo era un assessore regionale che rispetto a Moro non era nessuno diciamo la verità nell'ambito di quello che può essere un rapporto di forze Moro era l'italiano che stava per cambiare la politica italiana stava per cambiare la democrazia cristiana i rapporti di forze le alleanze era veramente l'uomo sul quale tutti dovevano puntare in quel momento o almeno si credeva che fosse così e Cirillo era invece l'assessore regionale presidente della commissione che avrebbe dovuto poi decidere sugli appalti dopo che il terremoto dell'80 e dell'81 aveva determinato tanti danni quindi era per un certo settore un uomo di un'importanza enorme e quindi nonostante dal punto di vista politico non si poteva ritenere un uomo effettivamente strategico nell'ambito dell'ADC eppure su di lui ci fu un movimento una forza veramente enorme per liberarlo ma quando si va avanti nell'indagine e questo è l'ulteriore aspetto cosa ci si accorge che non solo si è pagato ma quel che si è pagato è stato il risultato di una trattativa una trattativa nella quale erano entrati camorra brigate rosse servizi segreti ministero della giustizia con tutti i propri apparati e la politica cioè lo stato si era piegato in pieno ed aveva vergognosamente attuato tutti gli strumenti possibili per arrivare ad un accordo fra camorra br e politica perché Ciro Cirillo fosse liberato ma è particolarmente importante credo nel testo la parte in cui Carlo Alemi si presenta al carcere a Scolipiceno i registri chiede i registri i registri sono totalmente contraffatti tant'è vero che non c'è nemmeno più la firma del giudice della sorveglianza sapete che i registri nel carcere vengono vistati pagina per pagina il magistrato non c'è una pagina con la firma del magistrato e non so se siano state tutte bianche o meno non lo riesco a rilevare dal libro ma è certo che erano tutte contraffatte la cosa si accerta ancora andando avanti che nel carcere erano entrati servizi senza che ci fosse sono stati sia i servizi SISD sia poi SISMI e quindi gli apparati di sicurezza i nostri apparati di sicurezza entrano per svolgere un lavoro che è totalmente diverso e comunque con modalità che sono totalmente in violazione della legge ma non entrano solo loro con loro entrano soggetti come il sindaco di Giuliano come il portaborse dello stesso Cirillo come tanti altri che non figurano che entrano ed escono non solo ma addirittura Cutolo viene fatto uscire dal carcere viene portato per avere incontri fuori dal carcere cioè ci sono state delle dei comportamenti delle condotte di una gravità gli incontri con i latitanti cioè Cutolo veniva portato prima a casa propria poi veniva fatto incontrare con Corrado Iacolare con tanti altri Casillo tanti altri latitanti e tutto questo avveniva con piena consapevolezza di coloro che avrebbero invece dovuto far osservare le regole il direttore del carcere la polizia penitenziaria il direttore del ministero della giustizia che fu lui stesso ad autorizzare non per iscritto ma in modo verbale cioè delle degli comportamenti che oggi sembrano veramente fuori dal mondo stiamo portando avanti attualmente un progetto che è europeo con i paesi latinoamericani Francia Germania Italia l'Italia si occupa del sistema penitenziario e essendo anch'io coinvolto in questo rilevavo come alcune carceri dei paesi latinoamericani siano totalmente nelle mani della criminalità mafiosa di quei luoghi tanto che sono loro a decidere chi deve entrare chi deve uscire quale collocazione devono avere avviene ora in quei paesi da noi è avvenuto allora ma è avvenuto in un momento in cui esisteva una costituzione esistevano delle regole chiare esisteva una magistratura esistevano appartenenti alle forze dell'ordine esistevano servizi che dovevano osservare le regole ma chi era Cutolo Cutolo era il capo di una organizzazione la nuova Camorra organizzata che era presente in un certo momento quasi con 7.000 affiliati forse più negli anni 79 80 81 c'erano dai 100 ai 300 morti all'anno e così anche nell'82 e nell'84 ci fu la famosa retata degli 800 che è passata poi come il processo Tortola quando in realtà fu un processo di grandissima importanza che venne sviluppato contro una Camorra che era diventata padrona del territorio che era diventato interlocutore diretto con Cosa Nostra con l'Andrangheta aveva creato accordi aveva gestito il traffico di stupefacenti il contrabbando di tabacchi lavorati esteri gestiva tutti gli interessi economici a casa di Nuvoletta si riunivano sia i Bardellino con gli altri della nuova famiglia unitamente ai capi della nuova Camorra organizzata e parlavano anche di questi temi ebbene loro riuscirono ad avere rapporti con i brigatisti che in quel momento erano anch'essi particolarmente forti perché avevano dalla loro parte tutti coloro che si trovavano in un disagio sociale enorme perché non avevano le case si trovavano in una povertà e in una difficoltà enorme e quindi erano molto sostenuti e da un lato la Camorra con i propri affiliati e dall'altro le Brigate Rosse riuscirono ad accordarsi tra loro e venne pagata una parte di soldi insieme a armi ed altro alle Brigate Rosse grazie a chi? ad un uomo che era un camorrista che venne sostenuto da parti dello Stato importante dello Stato allora io non voglio parlare tantissimo per la verità ci tenevo a sottolineare alcuni aspetti come il fatto che questo libro secondo me deve essere un po' quasi come una Bibbia nel senso che dovremmo guardarla e dire come non deve mai più avvenire il rapporto fra Stato istituzioni e malavita e d'altro canto se ancora oggi si parla della trattativa mafia Stato si parla nel borsellino quater di quelle che possono essere state le entità esterne rispetto alle mafie che pure hanno partecipato se se ne parla nel capaciter se se ne parla cioè in tutti i processi che ancora oggi vengono celebrati davanti alle corti di Assisi facendo riferimento a delle parti deviate dello Stato e perché il problema c'era e c'è stato anche in seguito e allora essere sempre vigili su questi aspetti avere la possibilità di leggere capire ed essere sempre pronti a dire no e soprattutto chi fa parte dello Stato deve essere in grado di dire immediatamente no e tirarsi fuori ecco trarre insegnamenti da quello che è avvenuto credo che sia il momento più importante di lettura di esame di approfondimento di un testo che non è un libro di fantasia ma è la ricostruzione storico giudiziaria quindi è la verità di quello che è avvenuto in un certo momento storico io ringrazio Carlo per avermi invitato a questo incontro e per avermi dato la possibilità di leggere il suo libro e ringrazio tutti voi per avermi invitato e dato la possibilità di intervenire grazie prima di dare la parola a Isaia Sales consentitemi di dire due cose che sono due riflessioni su quello che ha detto Federico giustamente ha sottolineato come siano passati i 38 anni la differenza tra ieri e oggi pensate in questi 38 anni che cosa è successo la caduta del muro di Berlino Tangentopoli le leggi sui collaboratori di giustizia che hanno offerto nuovi strumenti ai magistrati per poter contrastare il fenomeno mafioso purtroppo dopo le morti di Falcone e Borsellino e tutta una serie di vicende che danno la differenza tra ieri e oggi come era arrogante quel potere che riusciva a fare una serie di cose che oggi non sarebbero pensabili però ha detto anche un'altra cosa e consentitemi di dirla forse è poco politicamente corretta ma ha evidenziato come nell'83 quella grande inchiesta sulla NCO che tagliò le gambe alla nuova camorra organizzata oggi viene identificata nell'immaginario come processo tortura ma fu invece una grande inchiesta di camorra e consentitemi di ricordare un amico e un magistrato Lucio Di Pietro che è stato massacrato e c'è morto io sono stato l'ultimo che lo ha intervistato nel giorno in cui è andato in pensione mi ha ricevuto a casa mi ha detto solo a te do questa intervista perché non parlo con nessuno sì e questo volevo fare e infatti per questo vorrei ricordare Lucio Di Pietro che ha insegnato il mestiere a tanti magistrati che oggi sono in uffici direttivi come si facevano le inchieste di camorra in un periodo in cui non c'erano leggi e strumenti per gestire i collaboratori di giustizia e questo era una cosa difficilissima e al di là dell'intervista che ho scritto e pubblicato me ne ha raccontate tante e anche confidandomi la sua amarezza per quello che ha dovuto patire fino all'ultimo quindi consentitemi di ricordarlo Lucio Di Pietro Grazie Grazie e ora la parola a Isaias Sales è la seconda volta che presento il libro di Carlo Alemi lo faccio con piacere senza aver ancora del tutto risolto nella mia mente alcuni interrogativi il libro ci aiuta in parte a farlo ma alcuni resteranno insoluti il primo è questo qui perché per uno statista come Moro non si trattò e per un uomo di potere periferico come Cirillo Sì nel libro ci sono delle spiegazioni ma quelle spiegazioni non resistono alla ragione come può uno stato nel giro di tre anni avere due atteggiamenti totalmente contrapposti e come può chi tratta la seconda volta pensare di uscirne indenne questa domanda resta ancora oggi perché all'epoca Cirillo era un carneade della politica italiana il suo nome non andava al di là della nostra regione eppure per lui lo stato fece un qualcosa che non ha fatto per uno dei suoi uomini migliori che stato è quello che consente una cosa del genere naturalmente con la ragione penso come il giudice magistrato De Rao non potrebbe più succedere ma qualcosa in me mi dice che non è scontato perché non si è venuto del tutto a capo o almeno i protagonisti non ci hanno spiegato le ragioni per le quali e potevano essere ragioni di amicizia di fedeltà politica di compassione per un uomo che comunque era stato sequestrato per le vittime di quel sequestro che furono delle forze dell'ordine per un ferito per la tragedia anche personale di quella di quel politico forse la verità è questa che Cirillo non era un amico da salvare Cirillo era un testimone da non far parlare Cirillo era al corrente del modo in cui un sistema politico periferico era diventato sistema di politico nazionale Cirillo era al corrente di come una corrente politica possa diventare una corrente che controlla il principale partito dello Stato italiano della politica italiana e dunque questa vicenda questo libro è innanzitutto un libro di storia perché la vicenda Cirillo non è una vicenda dentro la storia del terrorismo la vicenda Cirillo non è nella storia dei sequestri di persona la vicenda Cirillo è parte della storia del nostro paese un paese su cui ancora oggi ci interroghiamo e appunto non abbiamo tutte le risposte e questa vicenda è al tempo stesso per fortuna una pessima pagina della storia dello Stato italiano ma anche una bella pagina della Stato italiano e se non è solo una pessima pagina dello Stato italiano lo dobbiamo a Carlo Alevi perché nella storia ci sono alcuni rivoluzionari miti alcuni rivoluzionari sobri alcune persone che forse quando fanno degli atti non sanno neanche l'importanza che quegli atti assumeranno poi nel corso della storia ma li fanno non perché pensano di passare alla storia li fanno perché qualcosa in loro stessi gli dice lo devi fare lo devi fare nell'isolamento lo devi fare mentre i tuoi colleghi magistrati ti sconsigliano ti guardano storto pensano che sei un fanatico pensano che sei un protagonista e lo fai lo fai perché hai giurato perché se non facessi quello che stai facendo non potresti più guardarti in faccia non potresti essere più un giudice della Repubblica quel giudice di Berlino che ci deve sempre stare nelle pagine più nere della storia di un popolo ebbene questo giudice l'abbiamo qui con noi e lo dobbiamo anche ringraziare perché non ha scritto quando aveva i riflettori del suo incarico personalmente leggo tantissimi libri e molti libri magistrati carica mi piacciono preferisco quelli che scrivono dopo preferisco quelli che fanno un esame attento di quello che è avvenuto e cercano di dare un loro contributo quando non stanno sulla scena ecco Carlo Alemi è uno di questi giudici e io vedo scusa a chi mi ha già ascoltato ma in fondo non è che riusciamo a produrre pensieri nuovi nel giro di pochi mesi io ricordo perfettamente quel periodo ero in consiglio regionale quindi alcune di quelle persone le ho conosciute le ho guardate le ho anche disprezzate perché ritenevo che non si potesse fare quello che capivo avevano fatto e volevo occuparmi del caso e chiesi non lo conoscevo ancora al giudice Alemi se mi poteva ricevere volevo scrivere qualcosa su questa storia l'editore la terza ci aveva incaricato insieme con uno storico quale Nicola Tranfaglia di scrivere tre storie la storia di Lima la storia di Ligato e la storia di Cirillo naturalmente pensai di andare a parlare col giudice Alemi bene il giudice mi fece una serie di mi manifestò una serie di preoccupazioni di questo tipo venga a casa però non entri dalla porta centrale non entri dal portone centrale mi chiese di prendere delle precauzioni e io capivo capì che il giudice era seguito non si fidava degli altri organi dello Stato e mi chiedevo in che Stato siamo se un giudice deve aver paura di coloro il nome dei quali amministra la giustizia per me quella fu un'idea ebbe un'idea di delegittimazione dello Stato totale in quel periodo storico poi le cose sono cambiate ma ricordiamoci innanzitutto ricostruendo quella storia quanto sia fondamentale l'indipendenza della magistratura nell'equilibrio dei poteri nel nostro paese e quando la magistratura è stata controllata asservita in relazioni col potere politico non ha dato una buona prova di sé e quindi quando è fondamentale negli equilibri del potere che ci siano giudici che possano essere autonomi e non pensare che la loro attività debba compiacere o piacere a chi ha il governo del paese questa è una storia anche esemplare quanto valga nel nostro paese l'indipendenza della magistratura perché in quel periodo storico bisogna ricordare io da capogruppo del partito di opposizione all'epoca lo ricordo ancora perfettamente che una parte della magistratura napoletana premeva per fare i collaudi della ricostruzione nello stesso periodo in cui si cercava di far luce su quello che sarebbe stato l'intreccio tra politica affarismo imprenditori e criminalità e nelle pagine di Alemi quelle più amare sono proprio non avere alle spalle un procuratore che ti sostiene e non avere dei colleghi che ti sostengono ecco vorrei soltanto prima di avviarmi alle conclusioni ricordare alcune continuità storiche in questa vicenda riguardare questa vicenda anche nella lunga storia delle relazioni tra criminalità mafiosa e camorristica e la politica e aggiungiamo anche le forze di sicurezza Napoli con la vicenda Cirillo divenne un crocevia della storia italiana divenne protagonista della storia italiana ma lo era già stato prima perché questa idea di rivolgersi ai criminali come facitori di ordine pubblico o come coadiuvatori di ordine pubblico è lunga nella nostra storia questa tradizione cominciò l'Iborio Romano quando arrivò Garibaldi a Napoli che si affidò al capo della Camorra Torre Crescenzo per garantire un ingresso tranquillo a Napoli nel 1860 ci sono stati altri periodi storici che hanno riguardato un altro magistrato di cui poco si conosce nei libri di storia che è un magistrato nato a Cutro ma di Vietri sul mare si chiamava Diego Tajani fu poi anche ministro della nostra della nostra nazione ebbene nel 1876 si alzò in Parlamento era stato eletto deputato dove aver lasciato la magistratura e fece uno dei discorsi più belli che siano mai stati fatti nella storia del nostro Parlamento sul tema delle relazioni tra potere politico e mafia lui aveva scoperto che il questore di Palermo Giuseppe Albanese si serviva dei mafiosi per far fuori i delinquenti comuni e ebbe le prove spiccò mandato di cattura contro il questore albanese il quale si rese latitante e andò a protestare a casa del primo ministro Giovanni Lanza il quale naturalmente si schierò con lui erano prove schiaccianti e noi abbiamo nella storia la dimostrazione che il peso delle mafie sia quella siciliana sia quella calabrese sia quella campana il peso delle mafie non lo si deve alla loro forza militare alla loro violenza ma quello che cambia rispetto alle altre forme criminali nella storia sono le relazioni con coloro che dovrebbero contrastare quando i mafiosi si assicurano una relazione con coloro che dovrebbero contrastarli sia parlamentari sia ministri sia esponenti politici sia esponenti della forza di sicurezza sono un'altra cosa fanno parte della classe dirigente la storia della mafia in Italia è che essa è parte o è in relazione con le classi dirigenti perciò non ne veniamo a capo da tanto tempo e Daiani lo dice in Parlamento e come lo dice un altro giudice però da un'altra parte lo dice alla morte di Calogero Vizzini nel 1954 e guardate un po' un giudice era il primo presidente della Cassazione chiamava lo schiavo scrisse su una rivista dei giudici che si chiamava Processi un anno dopo scrisse è morto Calogero Vizzini si è detto che il capo della mafia colui che è ritenuto il capo della mafia si è detto sempre a sproposito che la mafia è contro lo Stato contro le istituzioni e calpesta le leggi io posso testimoniare che non è così che spesso la mafia ci ha aiutato a venire a capo gli episodi che altrimenti non avremmo scoperto scrive mi auguro che il successore di Cotesto Uomo possa continuare nell'opera di affiancamento alla legge di cui è stato testimone il suo predecessore il capo perché credo che nella gerarchia dei magistrati il primo presidente della corte di Cassazione svolga un po' una funzione nella gerarchia di capo della magistratura italiana riteneva questo della mafia il caso Cirillo avviene lungo queste relazioni ed è molto più scoperto perché gli interessi erano molto più scoperti e c'era anche un qualcosa della di un certo senso della napoletanità cioè era troppo sguaiata questa cosa era troppo evidente cioè quasi a ritenere che l'impunità era data a chi? a degli esponenti politici che noi definiamo impropriamente esponenti di un partito Stato loro si tenevano soci dello Stato una parte della democrazia cristiana naturalmente non generalizzo e chiedo scusa se faccio questo riferimento preciso una parte della democrazia cristiana riteneva che lo Stato fosse suo e che c'erano delle apparenze da salvare ma che quando erano messi in discussione i propri interessi poteva operare ma in questo caso lo fecero in una maniera così come dire così incredibilmente aperta che non pensavano di trovare una Lemi lungo la loro strada perché fecero entrare in carcere dei latitanti immaginate dei latitanti che entrano in carcere col tesserino dei servizi segreti ed erano casillo eiacolare fecero uscire un uomo che era in carcere lo fecero andare fuori e qui la storia che viene raccontata veramente dell'incredibile Cutola aveva il suo ufficio in carcere aveva un ufficio in un carcere della Repubblica che non feceva altro che quello che fece la camorra all'inizio cioè il proprio potere nelle carceri sudamericana era questo cioè la distinzione tra uno stato degno di questo nome e uno stato diverso è se i criminali controllano il carcere quella è una delle cose fondamentali che non può mai essere concessa altrimenti siamo di fronte ad una costatualità cioè abbiamo due stati non antistato abbiamo una polistatualità e abbiamo un duopolio del controllo della violenza quando ai criminali si consente di come dire di amministrare insieme allo stato la sicurezza siamo già in un'altra fase e quando si permette di avere più forme di statualità siamo in un'altra fase della storia questo c'è stato in Italia il caso Cirillo è un caso non del terrorismo non della camorra è un caso dello stato italiano della concezione dello stato italiano che si è avuti in certi periodi storici e noi ci auguriamo che non possa più avvenire ma non abbiamo l'assoluta certezza sappiamo che ci sono oggi uomini del sud alla guida di importanti istituzioni di sicurezza dello stato e ciò dimostra che esistono i Cirillo esistono altri esistono i giudici che chiudono gli occhi esistono altri e per fortuna abbiamo più possibilità ma in quella vicenda storica lo stato non si è comportato da stato ma si è comportato come un alleato di forze criminali questo è quello che appare del tutto evidente che la camorra addirittura riesce ad incidere nelle relazioni politiche perché è anche singolare il caso Cutolo fece un errore l'errore che fece Cutolo pensò lui di ricattare uomini abituati a una lunga gestione del potere e fece l'errore di forza di dare lui le carte per l'articolo dell'unità e l'articolo che uscì sull'unità consentì anche se era un falso ma consentì di scoprire una parte della verità ma quando Cutolo fece capire a chi doveva capire che lui era in condizione di parlare fu abbandonato e le relazioni di quel partito passarono agli oppositori di Cutolo e Cutolo perse la guerra perché ebbe contro sia i suoi avversari ma ebbe in qualche modo contro anche gli apparati dello Stato che facendo il proprio dovere in quel momento aiutarono in qualche modo da DC a liberarsi di Cutolo poi siamo incappati in un'altra delle cose imprevedibili della storia cioè il ruolo degli uomini un presidente della Repubblica Pertini che rompe il monopolio di Cutolo sul carcere lo manda lo manda alla Sinara anche questo è un elemento decisivo in questa in questa in questa storia bene siamo qui a poterlo raccontare a lei mi sta qui a poterlo raccontare questo è già un grande fatto per come sono andate le cose in Italia per come andavano le cose in quel in quel periodo è una pagina importante della storia d'Italia è una pagina decisiva per comprendere come dire che senso dello Stato avere e tutto sommato se non abbiamo perso il senso dello Stato è anche grazie a persone come Carlo Alemi perché tutto quello che è avvenuto poteva soltanto concorrere a dire non c'è niente da fare ma fino a quando ci sono persone come lui c'è sempre ancora qualcosa da fare prima di dare ovviamente la parola a Carlo Alemi per le conclusioni faccio qualche breve annotazione perché so che gli farà piacere gli darà anche spunto per poter sviluppare queste cose uno se questo libro c'è si deve anche ad una persona che è morta poco prima che è Gigi Necco e Carlo lo ricorda nel libro e pensate Gigi Necco è stato uno dei giornalisti gambizzati da più realisti del re della Camorra perché aveva fatto un servizio in cui metteva in ridicolo la medaglia che Gioarì il calciatore dell'Avellino andava a dare nell'aula di un tribunale a Cutolo e quindi è una delle vittime un giornalista vittima della Camorra l'unico poi ucciso lo sapete è Giancarlo Siani e un'altra persona che Carlo ricorda e quindi anche su questo gli do il là è Raffaele Bertoni che nel clima di isolamento che ha vissuto con colleghi Carlo è stato quello che invece ha difeso Carlo al CSM e anche a me è molto caro Raffaele Bertoni l'ho conosciuto mi scrisse una bellissima introduzione a un mio primissimo libro sull'Acamorra nel 93 e quindi lo ricordo con particolare affetto e amicizia e poi due cose di carattere personale che però sono nei ricordi di Carlo diffamazioni a mezzo giudice e il famoso fondo pubblicato dal mattino in quel contesto all'eminenza dell'ordinanza e naturalmente poi ci sarebbe stato il discorso in Parlamento di De Mita che difendeva Gava e quindi c'era l'alleanza correntizia per sostenere il governo De Mita e io fui assunto al mattino il giorno dopo il primo agosto dell'88 l'articolo uscì il 31 luglio dell'88 un'altra persona nella scia di omicidi di testimoni eccellenti che ricorda Carlo è stata la persona che io ho intervistato poco prima che fosse ucciso Enrico Madonna l'avvocato Madonna era stato liberato da poco venne in redazione perché voleva parlare con me era impaurito al massimo io registrei raccolsi queste sue dichiarazioni l'intervista fu pubblicata qualche giorno dopo quando fu ucciso e questa intervista viene anche ricordata nella prima relazione sulla Gamorra del 93 di Violante in cui inserisce l'ultima intervista data al mattino da Enrico Madonna e anche anche questa è una cosa nella scia dei morti in questa vicenda che ricorda Carlo in diverse pagine e poi l'isolamento tutti questi personaggi persone con cui si è venuti a contatto per motivi professionali e in un periodo storico che sono ricordi anche di carattere diretto e personale quando io mi si piede in tribunale ho fatto 13 anni di cronista giudiziario l'unico del mattino all'epoca periodo di Tangentopoli le grosse inchieste di Gamorra arrivavo con quest'alone con questa scia di un giornale che non era visto benissimo negli uffici giudiziari perché c'erano in corso due vicende che erano state al centro di grossi contrasti dibattiti e anche di critiche alla linea del giornale una era la vicenda Cirillo l'altra era l'istruttoria in corso la prima quella di Mino Palmeri sull'omicidio Siani ed erano le due vicende al centro del contrasto e del dibattito di quel periodo che mi facevano inquadrare in una certa maniera quando mi si piede a Castel Capuano poi questo fu una spinta per farmi conoscere e per dire io sono il cronista di questo giornale ma sono soprattutto io cioè che cerca di fare questo lavoro con un approccio di buona fede nel limite in cui me lo fanno fare e con un certo equilibrio quindi fu questo in quel momento in quel contesto il mio ingresso a Castel Capuano e fu una una cosa molto importante perché mi fece ancora più rinforzare le spalle per fare un lavoro in un settore che forse è il più difficile che possa seguire un giornalista o un cronista che è quello della cronaca giudiziaria dove tutti i giorni si è sotto esame da persone che sono dei tecnici e quindi in un pezzo se uno non conosce la materia e le cose di cui scrive subito viene pesato e bollato e messo da parte quindi è stata una grande scuola e questa vicenda è stato anche un grande trampolino di maturazione umana e professionale e questo lo dico adesso e ne do atto a Carlo a cui do la parola io mi rendo conto che parlare dopo voi già avete pazientemente ascoltato per tanto tempo gli altri tra l'altro con gli interventi tutti più che pregnanti e che sono tanti spunti di riflessione sia un poco difficile desiderio innanzitutto comunque ringraziare tutti per la vostra presenza e per la pazienza che state dimostrando pensavo di ricostruire più o meno quello che io ho scritto nel libro però penso di dovrei dare sono stato provocato e quindi di dare prima alcune risposte ad alcune domande poste dai dai miei amici allora innanzitutto Cirillo non era il rischio del popolo Cirillo era l'uomo di Gava sul territorio e Gava aveva fatto il salto al potere nazionale a Roma e aveva prima di andarsi si era dovuto assicurare il controllo sul territorio campano di Cirillo una cosa verissima si aveva paura che Cirillo potesse parlare perché conosceva tutte quelle che erano le vicende interne corrette e scorrette della vita il primo messaggio che fu mandato ai terroristi non fu liberato Cirillo disse a noi non interessa se lo liberate o meno però se non lo liberate subito lo dovete ammazzare c'era il terrore che Cirillo potesse parlare e raccontare molte di queste cose Cirillo le aveva raccontate degli interrogatori a cui era stato sottoposto durante il sequestro dai terroristi i verbali di questi interrogatori sono fra le tante carte scomparse che non sono state mai ritrovate la caratteristica di questa mia vicenda processuale di questa mia storia è che hanno tutti riconosciuto che se non era stato possibile fare più maggiore chiarezza perché c'erano stati troppi morti protagonisti o testimoni di quello che era successo perché erano scomparse carte importantissime tenete presente ad esempio che vengo a sapere dopo ben 4 o 5 anni dal sequestro che i figli di Cirillo avevano i nastri registrati degli interrogatori delle telefonate che avevano fatto con i terroristi bene quando mi decido a chiedere a questi signori ma veramente tenete i nastri sì sì li teniamo e perché non me l'avete tirato ma noi non pensavamo che potessero essere utili per le indagini e dove sono me li consegnano io le faccio trascrivere e il trepedito trascrittore mi dice questi nastri sono stati abbondantemente manipolati e tagliati questa era la situazione in cui io mi trovavo ad operare la solitudine del magistrato qui non è la solitudine del magistrato qui è l'opposizione totale da parte della procura della repubblica il procuratore della repubblica forse casualmente consuosero di uno dei costruttori che aveva partecipato alla raccolta dell'escatto per Cirillo era assolutamente contrario alla mia inchiesta e lo era anche nei confronti dei suoi sostituti se Carmine Pace e Libero Mancuso sono andati via se morire Carmine Pace lo ha fatto forse più per paura perché si era creato una situazione familiare la moglie non reggeva al rischio di un attentato Libero Mancuso e lo ha detto apertamente ha lasciato la procura perché non riusciva a lavorare e io stavo vi racconto solo questo episodio per dare un po' su indicazioni di Libero che vi leggiava a Viquequenze dove erano state gestite una parte delle trattative e la raccolta del denaro mi indica un costruttore di Viquequenze come quello che aveva gestito tutta questa vicenda e questa raccolta del denaro allora dice non dobbiamo sentire non dobbiamo sentire io tra l'altro mi ero mai interessato di procura non sono mai stato impegnato in modo attivo nella politica lo segui perché per me tutte le strade che è da percorrere si dovevano percorrere fino in fondo chiamiamo questo costruttore lo convochiamo la mattina si presenta in ufficio arriva Libero Mancuso dopo sienno tre o quattro minuti che abbiamo iniziato l'interrogatorio mi arriva la telefonata del procuratore ma lei mi dice Magestà Mancuso da te si passa milla ripasso Libero Mancuso il quale scolorisce in viso finisce di parlare e dice scusate io me la devo andare devo ritornare in procura cioè il procuratore gli aveva ordinato di dissociarsi da quel pazzo comunista che sarei stato io e di ritornare in ufficio questo era il clima in cui io ho lavorato il mio capo non aveva questa opposizione il consigliere struttore questa opposizione così ferma però diceva ma chi te lo fa fare ma a un certo punto non vale la pena ma tu perché puoi forse andare in fondo quello che sia e quando io perché fra le tante carte scomparse c'erano anche delle biglietti di auguri e di ringraziamento a Cutolo per il suo interessamento che erano stati trovati nel corso di una perquisizione a casa di Cutolo da Ciro del Duca che era uno dei funzionari della della questura e Ciro del Duca le aveva mostrato trionfante ai chironisti però non gli aveva consentito di fotografarli e dice no io li devo portare al questore e poi ve la vedete con lui i chironisti vanno in questura chiedono al questore questi questi documenti questi biglietti tirano poveri i biglietti di saluti eccetera scompaiono completamente quando interrogo del Duca mi dice li ho dati al questore quando interrogo il questore mi dice li ho dati a del Duca non ne sortiamo niente a questo punto mi sembrò più che opportuno iniziare l'azione giuriziale nei confronti del questore e di del Duca andai doverosamente immediatamente a raccontare questa mia vicenda al mio capo il quale però non gli avevo ancora detto che avevo inquisito dice perché è inquisito solo nel Duca il cittadino del Duca era andato a piangere dal capo a dire così mi hanno incriminato eccetera l'unica cosa che mi dice il capo è perché non ha incriminato pure il questore pensava ripigliarmi in calzata e gli dice stia tranquillo io ho inquisito anche il questore quindi sono tutti e due inviati a giudizio tutte e due come il solito la prescrizione questa è l'indipendenza della magistratura questo vi dice come sia difficile come sia difficile gestire un'inchiesta del giudizio quando malgrado tutto io sono riuscito secondo me a raccogliere prove sufficienti stiamo parlando del vecchio codice per cui le prove raccolte del corso dell'istruttoria formale avevano enorme importanza perché erano il cardine poi del processo e di quella che era l'inchiesta dibattimentale io l'ho riuscito a mio avviso ad aggiungere delle conclusioni abbastanza approbanti sull'esistenza delle trattative fatto che queste trattative diciamocelo e non l'ho detto soltanto io dopo vi leggerò solo un passo di un esponente delle istituzioni io dissi per me è sufficientemente provato che ci sono state queste trattative che a queste trattative hanno partecipato esponenti di spicco della democrazia cristiana ricordatevi sempre parlavamo del pseudo falso documento dell'unità che ha dato poi la stura anche alle mie indagini perché è stato comunque uno spunto per le mie indagini non sono stato violentamente attaccato la procura che era quella stessa procura che non voleva che andassero avanti le indagini ma porta i suoi rappresentanti i suoi due PM che avevano sostituito Libero Mancuso scelta del capo e Carmine Pace li vanno a dibattimento a dibattimento chiaramente l'istruttoria dibattimentale fu condotta secondo le direttive del PM vi dico solo che Raffaele Cutolo a un certo punto si volta vicino a uno di questi due PM e disse ma ti rendi conto che sei un grande buffone tu ma che ci stai a fare là Raffaele Cutolo in pieno dibattimento era il clima in cui si svolse questo processo prima si è parlato di Enrico Madonna Enrico Madonna io lo avevo interrogato nel carcere di Albani perché era stato arrestato a New York e mi aveva raccontato tutta una serie di vicende tra l'altro anche relativa all'omicidio di Calvi sotto il ponte dei Fratineri a Londra rientrato in Italia aveva ritrattato tutto a dibattimento dice al Presidente no no io ritrattato non è vero quello che ha detto quello me l'ha messo in bocca queste cose e io ho detto il giudice Alemi venite presente che io avevo svolto l'interrogatorio in presenza del suo avvocato di un colonnello dei Carabinieri che mi aveva accompagnato dell'interprete e della Polizia Americana quindi era un poco difficile mettere da parte mia in bocca queste cose a Enrico Madonna caso strano unico atto di coraggio del Presidente dice prima si parlava di arresto vado a riflettere un poco in Camera di Sicurezza Enrico Madonna va in Camera di Sicurezza questo non lo vorrei dire ma mi sono scocciato anche di non dire le cose viene avvicinato nel carcere e nelle Camere di Sicurezza da funzionari dei servizi i quali gli dicono sia tranquillo vada avanti come ha conseguito e confermi la smettita di quello che ha detto il risultato Enrico Madonna e scusatemi questo Giuseppe Savarese l'ingegnere di cui parlavamo prima di Vico e Quense che era quello che mi aveva concettito di dimostrare che Gava non era corrente delle trattative ancora prima della chiusura del sequestro Savarese viene che sarebbe tutti voi conoscono le axidie era il proprietario delle axidie di Vico e Quense ritorna al dibattimento e siccome tutto sommato non era un bravo uomo conferma quello che aveva detto in istruttoria il giorno stesso gli furono evocati tutti i figli per punizione perché non aveva mantenuto quell'impegno Luigi Necco Luigi Necco io gli sono profondamente grato questo non so se è una sua colpa l'avermi convinto a scrivere perché se non ci fosse stato lui non avrei scritto ma lui proprio perché era un appassionato chi lo ha conosciuto me lo può confermare e mi insiste ma no ma tu queste cose le devi raccontare ma non è giusto che cada tutto nel dimenticatoio se non le racconti tu chi lo può fare meglio di te che sai tutte queste cose comunque Luigi Necco come si ricordava prima era stato gambizzato in relazione alla vicenda appunto dei prefabbricati di Pini a Di Gioarì questo giocatore di colore portato a rendere omaggio a Cutolo dal presidente dell'Avellino Calcio ebbene quando lo gambizzarono e fu a gambizzarlo fu Enzo Castillo proprio su ordine di Cutolo disse Luigi Necco a qualcuno che diceva ma perché non stai più calmo ma perché non eviti Luigi Necco disse per me il giornalista o lo si fa in questo modo o non lo si può fare è meglio lasciare cambiare il lavoro queste sono forse ecco io gli devo un grande ricordo perché prima si diceva amava scherzare eccetera veniva conosciuto come giornalista sportivo ma Luigi Necco è nato invece come cronista di giudiziaria e lì si è fatto veramente le ossa di Raffaele Bertoni io non ho da dire niente perché Raffaele Bertoni è l'unico che quando io depositai l'ordinanza e fui violentemente attaccato in Parlamento dal Presidente del Consiglio che disse mi ero messo al di fuori il circuito costituzionale dal giornale il mattino che titolò in prima pagina diffamazione a mezzo giudice cioè da un altro giornale l'idea che era di proprietà della DC da giudice a calunniatore questo era il tipo di articoli che mi venivano dedicati dalla stampa del potere bene Raffaele Bertoni che era il Presidente dell'Associazione Magistrati in quell'epoca andò in ufficio dal mio capo tenete presente che erano i primi giorni di agosto si stava in ferie tutti quanti vogliono andare in ferie trascorse 4-5 giorni a leggersi le 1350 pagine della mia ordinanza e solo dopo che le aveva lette rilasciò un'intervista a Repubblica della quale diceva io difendo Alemi perché ha fatto soltanto il suo dovere Raffaele Bertoni fu criticato dai colleghi perché dissero che si era esposto per causa mia io ero diventato il giudice scoporo che era meglio tenere da parte ecco perché non ho tanto da dire di Raffaele Bertoni perché parlerete tutta la notte per le fine per le di lui voglio solo leggervi la dichiarazione fatta non da un dissociato perché io ci ho tenuto non soltanto nel mio libro a raccontare le mie conclusioni ma a metterle a confronto con quelli che sono stati gli esiti delle varie commissioni parlamentari che si sono interessate sia all'antimafia su quella dei servizi segreti per quanto riguarda i servizi segreti i servizi segreti possono anche andare ma non nascondendo cambiando i nomi in carcere a contattare un detenuto ma per trovare l'ostaggio per avere notizie sulla su quelli che potrebbero essere i sequestratori su dove potrebbe essere tenuto l'ostaggio in sequestro invece la commissione parlamentare sui servizi segreti commissione gualtieri quindi non il giudice alemi aveva concluso che i servizi invece di fare questo avevano erano andati in carcere avevano trattato soltanto per ristaurare le trattative per la liberazione di Ciro Cirillo con il pagamento di denaro alle Brigate Rosse quel denaro solo per intenderci è stato utilizzato per comprare armi con cui le Brigate Rosse hanno poi compiuto i successivi attentati quello all'assessore del Cogliano e al suo autista quello al capo della squadra mobile Antonio Amaturo e al suo autista il questore dell'epoca aveva avuto una nostra segnalazione perché uno dei dissociati dell'Ebr aveva detto guardate noi stavamo preparando un attentato al dottor Amaturo qual era la colpa del dottor Amaturo di avere indagato su Raffaele Cutolo e sui suoi collegamenti con un certo potere aveva anche arrestato in precedenza Antonio Maisto quando era commissario a Giuliano e per questo era stato trasferito di ufficio e da un giorno all'altro in Calabria poi era ritornato però aveva continuato e aveva fatto delle svolte delle indagini personali su sul sequestro aveva detto al fratello guardati ho mandato una relazione al ministero ne mando una copia a te perché bene tu sappia perché quando usciranno queste cose salterà l'Italia e questo l'hanno confermato i suoi collaboratori queste sue dichiarazioni la moglie la sorella Antonio Amaturo viene ucciso la nostra segnalazione al questore non viene presa in alcuna considerazione guardate che all'epoca le brigate rosse andavano avanti all'uccisione di tre quattro persone in Campania quando fu contestato al questore dell'epoca era lo stesso che aveva fatto scomperire i biglietti e tanto per intendo dice ma lei perché poi non ha immediatamente installato una maggiore tutela per il dottor Amaturo e vabbè se la voleva se la metteva lui la maggiore tutela questa fu la giustificazione del questore allora questa era la collaborazione la totale non collaborazione nella quale io ho operato e che purtroppo non mi ha consentito forse di arrivare a quei risultati che sarebbe già stato giusto ma per Antonio Amaturo e per tanti altri da aggiungere io aspetta vi voglio fermare qua perché ci sarebbe tanto da dire che non è possibile quindi se c'è qualche domanda da fare io sono pronto a rispondere come credo tutti quanti noi grazie mi sono riveduto volevo leggere le conclusioni della commissione parlamentare antimafia ha concluso che tra le contropartite di Cutolo in cambio nel suo intervento con l'IBR vi erano favori e profitti per le imprese legate a Cutolo nella concessione degli appalti e nei lavori per la ricostruzione il fattore determinante dello sviluppo camorristico è stato rappresentato proprio dal patto tra esponenti politici e camorristi stipulato durante e dopo la vicenda del sequestro Cirillo Antonio Sibilia che era un imprenditore avellinese inquisito sui rapporti con la camorra disse tutto nasce dal sequestro Cirillo e dagli accordi che sono stati presi a Roma arbitro Flaminio Piccoli in conseguenza della liberazione di Cirillo è vero che fu raggiunto un accordo di carattere generale per cui per ogni appalto della ricostruzione gli appaltatori dovevano versare una doppia percentuale il 5% alla camorra e il 3% ai politici interrogatorio del 9 settembre 1993 grazie e allora questo è già la premessa di quello che poi sarebbe stato definito il rapporto sinallagmatico a tre impresa politica e camorra degli anni 90 questo accordo questo è stato citato l'ingresso della camorra nel potere legale questa è la realtà grazie 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 grazie